ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video questa volta parliamo di preferiti del 2019 e quest'anno ho deciso di farlo in maniera un po' differente questo è un sacchettone come vedete con tutti i prodotti preferiti finiti nel 2019 ossia ogni volta che ho fatto il video prodotti finiti ho salvato dai preferiti dai finiti del mese quelli che erano proprio dei best a mio parere che mi erano piaciuti tantissimo e li ho quindi voluti mettere dentro questo sacchetto quindi ogni mese non salvavo affatto ovviamente tutto ciò che avevo finito ma salvavo solo quei prodotti che di quel mese secondo me erano super meritevoli in questo modo ho creato questo sacchetto con tutti i prodotti best del 2019 e così ve ne vado a parlare ovviamente ci sono quasi del tutto prodotti di skin care visto che di make up si finisce poca niente per cui di make up probabilmente se lo gradite e fatemelo sapere nel caso lasciando un cuore verde se volete il video dei preferiti make up che non riguarderà i finiti ma riguarderà proprio le cose del 2019 che mi sono piaciute di più con invece la skin care ho preferito fare in questo modo e quindi parlarvi dei miei best una volta che li avessi terminati per cui vado a pescare random e così capiamo di che cosa parlare allora pesco la prima cosa saranno super super random perché è proprio un sacchetto di cose che finalmente poi andrò a buttare trovo questa maschera la vital hydra solution di dottor jart sicuramente una delle maschere quindi che mi è piaciuta di più l'ho trovata super super imbibita veramente idratante nei momenti in cui avevo la pelle devastata da la dermatite mi era piaciuta tantissimo ne ho consumate tante tipo almeno 5 6 ma ovviamente ne ho salvata una per cui l'ho trovata veramente ottima ed è una di quelle che vi consiglio altra che ho salvato vedo qua è quella la rosca di pur hills scusate che si chiama rosca allus mask che dovrebbe essere idratante illuminante calmante dice è intensamente idratante è questa qua di pur hills anche questa mi è piaciuta moltissimo poi pescando random vedo subito il siero ovviamente il siero di dottor jart quindi il ceramide in come sapete io utilizzo anche il tonico che anche sono uno dei preferiti 2019 anche se non l'ho finito ma ecco non posso assolutamente far a meno di menzionarlo infatti vi dirò che qualcosina la pesco adesso anche dal skin care attuale anche se non l'ho terminata quindi la linea ceramide in sicuramente una delle linee che preferisco alle ceramidi super riparatrice super calmante super nutriente super adatta se avete pelle reattiva entrambi mi sono piaciuti tanto sia il siero sia il tonico e ovviamente penso che troveremo anche la crema mi è dispiaciuto tantissimo mi ricordo quando ho finito il siero poi eisenberg vedo la suona antistress ma questa è un recente finito ve ne ho parlato a lungo quindi magari se mi seguite da relativamente poco ma l'avete sentita nominare di recente l'ho terminata credo il mese scorso è una crema proprio super 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 indicata per chi ha la pelle stressa infatti dice su enanti stress per chi ha la pelle super reattiva per chi ha la pelle molto 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 secca è un prodotto da usare la sera ed è quasi una texture burro più che una texture crema una vera coccola per il viso è sicuramente una delle creme che ho preferito nel 2019 poi qua vedo la allora top 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 tra i medio low cost la crema detergente ultranutriente riche creme di Yves Rocher questa è una crema stratosferica tra i prodotti per la detergenza e per lo struccaggio anzi meglio dire è senz'altro stato uno di quelli che ho amato di più in assoluto è una vera e propria crema grassissima che poi quando voi andate a mettere sulle mani diventa un olio con il quale vi potete struccare in maniera divina è veramente un prodotto eccezionale peraltro è anche senza solfatti e senza schiuma è proprio un olio si trasforma in olio meraviglioso dovete assolutamente provarla questo è un balsamo questo qua natura siberica si lo vedete si artic rose che mi è piaciuto da impazzire tutti i prodotti che vi cito li scrivo in info box in modo che non vi possiate perdere dei nomi che magari dico in maniera incomprensibile perché mi è piaciuto questo balsamo innanzitutto ha un odore divino c'è un odore proprio di rosa sembra di essere in un giardino di rose un odore molto molto naturale per niente chimico per niente sintetico e poi non ho mai provato un balsamo districante a questi livelli voi lo mettete sui capelli anche super strano dati e come per magia avete dei capelli districati setosi e pettinabilissimi eccezionale veramente poi questo era un tonico che ho adorato questo risale agli inizi credo del mille del mille del 1980 del 2019 è di vianec quindi un prodotto completamente naturale lo trovate nelle bioprofumerie è un tonico non mi ricordo a quale fiore forse al fiordaliso non lo ricordo perché a me l'hanno regalato al cosmoprof ed è tutto in polacco quindi non ci capisco nulla si nebulizzava sul viso aveva un'azione rinfrescante calmante lenitiva idratante meravigliosa un prodottino veramente super 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 soprattutto per pelle disidratate tendenti al secco bisognoso di essere lenite e idratate è il top poi ah giusto bifasico del cuore ve l'ho citato tantissime volte nel 2019 l'extra gentle bifas make up remover per occhi e labbra di sefora un bifasico meraviglioso low cost perché costa veramente poco che vi leva tutto in maniera estremamente dolce perché essendo bifasico la componente oleosa fa veramente il suo dovere di scivolare bene sulla sull'occhio sulla sulla pelle quindi assolutamente un bifasico che vi straconsiglio codali latte struccante dolce stupendo strucca benissimo in maniera dolcissima in maniera delicatissima si rimuove perfettamente tutto il make up ed è extra extra dolce infatti si chiama gentle cleansing milk ed è veramente gentile è veramente performante quindi anche questo mi è piaciuto tanto a biofficina toscana crema gel viso alla malva ottimo prodotto si assorbe subito super idrata lenitivo al massimo è stato un prodotto che utilizzato moltissimo nel periodo della dermatite rinfrescante molto adatto alla primavera estate perché molto molto leggero ma intensamente idrotante mi è piaciuta tantissimo poi prodotto per i capelli l'ho adorato sono andata in crisi quando è finito ho trovato dei prodotti che mi piacciono comunque anche attualmente molto però resta uno sicuramente dei migliori che ho provato il linea imagea elgon sapete essere uno dei miei brand preferiti linea imagea altrettanto della l'idea di algone proprio la mia linea preferita questo è fito lisir uno spray che si spruzza sul cappello tamponato lavato e tamponato con un asciugamano immediatamente i capelli sono super petinabili setosi lucidi è una meraviglia di prodotto un live in stupendo siero siero tra i miei super preferiti della vita credo di averlo messo anche l'anno scorso tra i sieri preferiti per le pelli anta è una manna dal cielo si tratta di fospeed serum rigenerante per chi fa uso di acidi è perfetto perché aiuta proprio a rigenerare la pelle contiene infatti fosfolipidi e glucosamina e glucosamina glicani quindi praticamente aiuta proprio i mattoncini della pelle a ricostituirsi per così dire è un siero meraviglioso lo trovate in farmacia ed è sicuramente tra i sieri migliori che abbia mai provato negli ultimi anni poi contorno occhi che mi ha conquistata a parte che non finisce più l'ho portato 30 ml mesi e mesi e mesi per finirlo veramente costa sicuramente molto più di altri contorno occhi non è bassa fascia non è media fascia è alta profumeria però sono anche 30 ml che di solito il contorno occhi sono 15 dura tantissimo distende perfettamente la zona del contorno occhi pretrucco perfetto se lo usate anche la sera la mattina vi svegliate comunque con un contorno occhi super idratato si chiama su un sublimata con turtesi e di eisenberg come sapete uno dei miei brand preferiti e l'ho amato tantissimo poi resulta in risulta in quest'anno mi piaciuta tantissimo ho usato il loro siero sto usando l'oro essence prodotto che mi è piaciuto tantissimo linea incentrata sul collagene questo è il gel serum collagene con il collagene rimpolpante è praticamente una vera e propria gelatina come quella che un tempo si metteva sui capelli ma è appunto un siero immediatamente vi rinfresca il viso utilizzato d'estate stra piacevole e l'effetto sulla pelle bella distesa rimpolpata stupendo questo siero mi è piaciuto moltissimo poi siamo arrivati a trovare anche lei quindi completa il trattamento viso che utilizzato nel periodo della dermatite in maniera molto intensa il siero appunto è la crema la crema mi era stata regalata da vicky vittoria sagì la mia amica quando sono stata da lei alle canarie è un prodotto stupendo meraviglioso intensamente nutriente e l'ho adorato mi è piaciuto da impazzire probabilmente tra tutti tutti i trattamenti del 2019 di skin care la numero uno quindi mi è piaciuto a islam mi è piaciuto gli altri che vi ho citato ma se dovessi scegliere un prodotto da eleggere principe assoluto del 2019 sarà meeting la crema poi meravigliosa adesso sono fissata con la coda lì che sapete la prendo perché come ho detto devo pescare anche dai prodotti che ho qui per dirvi quali sono i miei preferiti ma lei senz'altro entra di diritto tra i prodotti preferiti del 2019 la eau de beauté beauty elixir di coda lì l'acqua fissante la beauty mist fissante idratante con arricchità di oli essenziali illuminante anche più figa che abbia mai provato nella mia vita è questa coda lì a parte che adoro anche il pack in vetro però mi era piaciuta tantissimo anche late hour miracle hydrating mist buona 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 queste due senz'altro posso dire che sono state il top tra le acque fissanti poi prodotto meraviglioso un live in stupendo davines si chiama renewing renewing sì serum super active è praticamente un siero di longevità per cute del cuoio per cuoio capelluto e e capelli praticamente me lo spalmavo sulle mani lo mettevo dalla radice alle punte dei capelli rinforza i capelli tantissimo li rende belli pieni corposi e subito pettinabilissimi la sua applicazione non è con lo spray come quello di elgon ma era appunto con la pipetta dosatrice lo mettevate nelle mani poi andavate proprio sulle lunghezze bellissimo prodotto stupendo prodotto mi è piaciuto tantissimo altro prodotto della linea di dottor jart che mi è piaciuto tanto è il sica per tiger grass repair serum si era un riparatore all'erba di tigre quindi alla centella asiatica stupendo prodotto da utilizzare quando la vostra pelle ha bisogno di essere riparata quindi in caso di dermatite top e infatti lo utilizzavo alternandolo al a questo siero e in caso di utilizzo di acidi meraviglioso prodotto perché quando voi praticamente utilizzate gli acidi avete bisogno di riformare l'acido leva in pratica lo strato superficiale di pelle vi fa fare il cambio appunto il turnover cellulare ma per riparare quindi ricostituire la nuova pelle tra virgolette ottimi prodotti riparatori quindi avete visto che ne uso parecchi che hanno questo tipo lo tipo di funzionamento diciamo il phosphate serum questo qua la centella asiatica attualmente come sapete due dei miei prodotti preferiti sono vediamo se lo pesco ecco la linea di pur hills la centella 70 cream e la centella 90 ampoule sempre a base di centella asiatica ho scoperto la centella asiatica e per la mia pelle che è un po' reattiva in certi periodi e ha bisogno di essere rigenerata perché uso gli acidi e la manna dal cielo è perfetta quindi anche pur hills mi piace tanto e anche guarda caso ci sono tanti prodotti coreani quest'anno perché sto andando verso quella direzione poi un altro siero che mi è piaciuto doveva arrivare in italia questo brand ma io non l'ho visto quantomeno online e mi dimentico sempre di controllare se in sephora negozio fisico si trovi se lo trovate prendetelo perché è veramente un siero figo si tratta di allies of skin alleati della pelle vitamin c 35 per cento collagen rebuilding serum anche in questo caso vedete un siero rebuilding serum quindi ricostituente rigenerante al 35 per cento di vitamina c e al collagene quindi ovviamente la vitamina c sapete mi piace tantissimo antiossidante per eccellenza illuminante il collagene ovviamente aiuta a tenere su tutta la nostra impalcatura è un siero che mi è piaciuto tanto è tipo un olietto questo e quindi io consiglio l'utilizzo serale se non volete essere superunte io riesco a utilizzarlo anche di giorno o meglio riuscivo ormai non ce n'è ovviamente più l'ho finito da qualche mese un mesetto e mezzo forse riesco a utilizzarlo anche di giorno in piccola quantità perché la pelle è molto molto secca quindi se lo beve magari poi metto un po mettevo un po meno di crema però meglio la sera se avete la pelle normale mista altro bifasico che mi è piaciuto moltissimo e se la batte appunto con quello di sefora è quello di biofficina toscana che è appunto il latte tonico bifasico io non lo chiamerei latte tonico bifasico ma per me è proprio un bifasico trovo più giusta la dicitura secondaria che dice lozione viso struccante detergente io lo utilizzavo proprio per struccare per esempio le labbra o togliere l'eccesso di trucco quando ero troppo truccata dagli occhi prima di andare a passare un prodotto cremoso ottimo prodotto mi è piaciuto tantissimo poi per lavare il viso un detergente che mi è piaciuto tanto e ha meritato di andare dritto dritto nei prodotti preferiti del 2019 è la linea carbone attivo di equilibra un gel detergente che loro danno come detox quindi sembrerebbe da indicazione essere dedicato soltanto alle pelli impure in realtà io non ho una pelle impura però ho letto che c'è scritto anche indicato adatto a pelli sensibili qua dietro e la trovo una dicitura che io metterei ancora più in evidenza davanti perché in questo modo potrebbe far pensare che essendo adatto a pelli impure pelli magari sensibili un po reattive come la mia possano andare in sofferenza tra virgolette nell'utilizzarlo io invece l'ho trovato eccezionale ha il 20 per cento di aloe vera l'ho trovato super delicato sulla pelle mi dà quella sferzata di pulizia matutina molto molto piacevole e asporta gli ultimi residui di trucco la sera dopo che ho fatto la double cleansing e quindi mi ci sono trovata stra bene un prodotto assolutamente della grande distribuzione quindi molto reperibile è abbordabile costa sui 5 euro ottimo prodotto ancora ritrovo una mini sites di ceramidine perché ho appunto utilizzato vedete sia la mini sites che la full sites e adesso ho delle altre mini sites e mi sta balzando in testa di andare a pescare quelle mini sites e usarla ancora non riesco a staccarmi dal prodotto altro prodotto utilizzato è la cica per appunto crema quindi così come di dottor già di ceramide non ho usato crema e siero anche dalla linea cica per avevo utilizzato la crema e appunto il siero diciamo sempre alla centella asiatica quindi super riparatore stesse caratteristiche che vi ho detto anche la crema e mi ci sono trovata da dio è veramente un prodotto ottimo peccato che sia finito in fretta perché ne avevo una porzione piccolina poi shampoo corporizzante di elgon uno degli shampoo migliori che ho provato quest'anno da proprio corpo al capello ve lo sentite super voluminoso è corporizzato appunto abbastanza ma soprattutto ha un buonissimo odore e già nel momento in cui lo state utilizzando è delicato sul capello è dolce è a quel fa quella schiuma morbidina ecco che io ho molto bisogno delle degli shampoo che fanno le schiume morbidine non siano troppo sgrassanti perché al capello secco altro prodotto mi piaciuto tanto sempre come shampoo e l'ho messo tra i preferiti 2019 è il triple rx shampoo con oblifica quindi bacca di olivello spinoso riparatore ristoratore rivitalizzante per capelli danneggiati e secchi appunto quindi quello che ho appena detto bacca di olivello spinoso quindi a questo olio di oblifica appunto al suo interno schiuma molto ricca profumo meraviglioso forse il miglior profumo come shampoo che mi ha mai provato permane sul capello per un giorno intero buono e vi lascio i capelli super super nutriti già dallo shampoo e poi adesso mi casca tutto c'è veramente troppa roba termino con gli ultimi prodotti abbiamo il suo velutè de maquillant idrotante di eisenberg altro latte detergente che ho amato insieme a quello di codali quindi abbiamo questi due come latte detergente mi è piaciuto tantissimo e che direi i prodotti di eisenberg sono super performanti ripeto alta fascia quindi comunque costo piuttosto sostenuto però prodotto ottimo quello che deve fare lo fa lo fa benissimo in totale dolcezza strucca molto bene quando dice idrotante è vero perché vi sentite che poi a quando sciacquate la pelle non tira minimamente vi dà proprio una sensazione molto coccolosa sulla pelle altro prodotto che mi è piaciuto utilizzato molto volentieri nel periodo dermatite e soprattutto in estate è stato il sensitive vegetal concentrato alta tollerabilità per pelli sensibili di yves rocher quindi una cremina molto carina diciamo medio low cost durata un sacchissimo al sistema del sacchetto dentro che si diciamo ciuccia il prodotto verso cioè banda il prodotto verso l'alto quindi non è sprecate per niente questo l'ho adorato mi è piaciuto tanto era stata la crema insieme a quella di biofficina toscana che ho usato tanto in primavera estate cremine abbastanza leggere ma molto molto idratanti chiudo con sì questi qua sono di make up quindi li lascerò magari quando chiacchiereremo di make up sapete il deodorante che ho preferito durante l'anno e eisenberg jose costo alto sui 40 euro di deodorante ma mi è durato quasi tutto l'anno l'ho iniziato se non ricordo male per il mio compleanno l'anno scorso l'ho terminato più o meno mi pare se non sto sbagliando verso il mio compleanno quest'anno quindi mi è durato tipo un anno intero questo prodotto è eccezionale mi è piaciuto veramente tantissimo super 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 prodotto cioè mi ha una cosa molto importante di questo prodotto è che oltre ad avere un profumo buonissimo a deodorare bene a lungo tutto il giorno fa una specie di cremina nella scella super nutriente quindi vi nutre la scella io ho sempre problemi che a me di odoranti fanno spesso venire prurito e mi seccano la zona questo assolutamente no è proprio un prodotto buono c'è un vestito è 40 euro ma vi dura tutto l'anno e secondo me è proprio eccezionale come performance contorno occhi preferito dell'anno ho messo lui il loro ericsson insieme a quello di scusate di heisenberg l'ole henriksen banana bright eye cream usavo più spesso questo la sera e questo di giorno pratica ho usato questi due se non ho salvato qualcos'altro durante l'anno è perché questi mi avevano entusiasmato di più l'ho trovato veramente ottimo questo peraltro l'ho finito da poco ottimo anche sotto il trucco anche se dice di regola appunto lo utilizzavo di più la sera però devo dire che un po alternavo beccavo uno dei due li ho alternati anche contemporaneamente notte giorno e questo era più spesso la sera questo era più spesso il giorno ma non per forza illuminante mi distendeva molto molto bene il contorno occhi e poi dopo quando andavo ad applicare il correttore funzionava benissimo quando lo applicavo appunto di giorno di sera ne mettevo in abbondanza finché l'occhio andava ad assorbire il contorno occhi andava ad assorbire la mattina mi sono sempre svegliata con un contorno occhi super disteso questi erano tutti i prodotti utilizzati nel 2019 terminati che ho preferito quindi spero di avervi dato qualche dritta magari su prodotti che desiderate provare o su prodotti sui quali sui quali vi state vi stavate domandando appunto in merito alla loro performance e quindi spero di aver svelato qualche dubbio liquidato qualche dubbio oggi se non riesco a parlare sono un po evidentemente stanco è tutto ragazzi allora fatemi sapere se desiderate appunto con un bel cuoricino verde nei commenti così io quando scorro vedo cuoricini verdi e capisco se gradite il video sul preferito in makeup andrò sicuramente a farlo mi sto guardando intorno se avrò ritrovato dei preferiti skin care che mi sono dimenticata di inserire li inserirò in quello del makeup se appunto andrò a farlo fatemelo sapere io vi mando un bacio ci vediamo domani con un nuovo video ciao